Ecco lo storico incontro tra il console della BAI in Italia, Marcello Stacioli e il Presidente, che si fa attendere, però ecco, attenzione, questo è un evento storico. Si incontrano per la prima volta, diciamo, si erano visti già 18 ore fa. Ogni volta è un po' per la prima volta.